Come nasce un premio Nobel? Firenze inaugura Beautiful Minds, una mostra sul talento e la creatività. La versione fiorentina della mostra, già realizzata a Stoccolma nel 2001, celebra i cento anni dalla nascita dei premi, con una sezione in più dedicata a 19 Nobel italiani. La straordinaria miscela tra creatività degli individui e creatività degli ambienti è presentata in uno spazio multimediale attraverso filmati, oggetti originali e documenti. Tra le grandi personalità del Novecento e vincitrici del Nobel, solo poche sono donne e forse è proprio per questo che sorridono. Beautiful Minds, una finestra sul mondo e sull'origine della creatività. Beautiful Minds, Palazzo Strozzi, Eva Pratesi, C10. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori,